Più 3,9 nel 2022, crescita che sarà confermata anche durante l'anno in corso, che secondo le stime si chiuderà con un più 1,3%. Sono positivi i dati dell'economia fiorentina elaborati dall'Ufficio Studio Statistica della Camera di Commercio di Firenze. Sempre nel 2023, l'andamento dei consumi evidenzierà una discreta moderazione senza subire un vero e proprio crollo, più 1,2%. Al peso dei rincari, si sono sommati gli effetti dello shock derivante dal peggioramento della situazione finanziaria, a seguito dell'aumento dei tassi di interesse, che potrebbe intaccare le possibilità di richiedere l'accesso al credito al consumo. L'export invece, pur mantenendosi su livelli alti, dovrebbe attestarsi sugli stessi valori nel biennio 2023-2024. Bene anche l'importazione, perché chiaramente la domanda di prodotti importati è servita anche per la discreta ripresa che ha caratterizzato il comparto manifatturiero nell'arco del 2022, quindi ha generato un saldo intorno ai 10 miliardi di euro, un export netto che ha contribuito bene alla dinamica del prodotto. In parallelo all'export ha contribuito anche allo sviluppo sia della domanda interna, dal lato investimenti, ma anche dal lato dei consumi interni, perché al di là di quella è stata ripresa la domanda turistica nella seconda parte dell'anno, ma attualmente sta riprendendo in misura ancora più sostenuta di quanto è successo nel 2022, i consumi interni hanno tenuto molto bene. Per l'economia della città metropolitana fiorentina si sta delineando un percorso di transizione non esente da rischi. Sul fronte del mercato del lavoro, complessivamente in ripresa, resta soprattutto in alcuni settori il cosiddetto mismatch, ovvero la difficoltà delle aziende di trovare lavoratori. Monitoriamo quelli che sono i bisogni occupazionali delle imprese e le loro previsioni di assunzione. Ci tengo a sottolineare che questo report a consuntivo sulle previsioni di assunzione viene confrontato con le assunzioni effettive registrate dall'Inps e il dato è coerente, cioè questo campione si è dimostrato negli anni estremamente solido e attendibile. E quindi questo è uno dei nostri report principali. L'altro che ci tengo a sottolineare e che facciamo solo noi è l'indagine sulla congiuntura manifatturiera dell'area metropolitana fiorentina. È un report che viene utilizzato anche da Banca Italia per i propri rapporti. Cioè noi andiamo a monitorare la previsione, non solo il pre-consuntivo, ma proprio le previsioni di fatturato, di ordini e di assunzioni anche per le imprese manifatturiere che per l'area metropolitana fiorentina sono come sapete estremamente importanti. È aperto il bando della Camera di Commercio Impresa 4.0 che mette a disposizione un fondo da 500.000 euro per le piccole e medie imprese che investono in digitalizzazione e sostenibilità ambientale, contributo fino al 50% delle spese, fino ad un massimo di 6.000 euro. Per informazioni e modulistiche visitare il sito della Camera di Commercio di Firenze oppure cliccare sul QR code. Scatta l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore per le RSL e le Cooperative con l'approvazione del bilancio 2022. La nomina è obbligatoria con il superamento di alcuni limiti previsti dal Codice Civile. Per maggiori informazioni e per la corretta compilazione della pratica da inviare a registro imprese, consultare il link dedicato del sito oppure cliccare sul QR code. Ogni cittadino può indicare un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della pubblica amministrazione su Inad, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare il domicilio digitale indicato per tutte le comunicazioni con valenza legale dirette al cittadino. Chiunque potrà consultare l'Indice dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Per maggiori informazioni, consultare il link dedicato oppure cliccare sul QR code. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News, direttamente nella mail.